Buongiorno, grazie a Urbanit, grazie all'Università di Bologna per questa riflessione. Io volevo condividere con voi due riflessioni, una su quello che sta succedendo a livello europeo e due su quello che sta succedendo in Italia, sulla questione urbana. A livello europeo voi sapete che si parla di urbano da vent'anni e diciamocela proprio tutta senza un grande successo, perché la discussione a livello europeo è avvelenata da una questione molto popolare che in realtà si riferisce alle tensioni istituzionali tra stati membri e livello europeo. La preoccupazione di molti stati membri è che con questa questione urbana l'Europa mette i piedi negli affari che sono tutti affari interni e questo ha reso estremamente difficile l'emergere di una dimensione urbana a livello europeo. E per essere altrettanto chiari questa questione è tutt'altro che risolta, tutt'altro che risolta. La discussione è difficilissima e credo che l'anno che viene per una serie di coincidenze, la prima tra tutte è Habitat 3 alla fine dell'anno prossimo, la presidenza olandese nel primo semestre del 2016 che porta la questione urbana in modo molto forte, c'è una possibilità di consolidare la questione urbana e di farla diventare un pezzo importante della riflessione europea. Ma credetemi, questa discussione è una discussione, non bisogna farsi illusioni sull'Europa e le città perché vi posso garantire che la discussione interna alla Commissione e con gli stati membri è estremamente, estremamente complicata. La Commissione ha messo sul tavolo quattro idee semplicissime. Abbiamo cercato di dire smettiamola di fare grandi riflessioni, concentriamoci su quattro cose su cui si spera possiamo fare qualcosa di misurabile. La prima è identifichiamo insieme poche priorità, temi su cui lavorare. Non si può tutto quello che è importante a livello locale non è necessariamente importante a livello europeo e quindi bisogna fare delle scelte. Perché uno dei problemi che abbiamo sempre avuto noi urbanisti, regionalisti nella discussione sulle questioni urbane è sì, ma lì si fa un po' di tutto e un po' di più, l'Europa ha le sue priorità, qual è il legame fra la riflessione urbana e le priorità europee. Quindi concentriamoci, identifichiamo poche cose. Sembra semplice da dire ma difficilissimo da fare perché appena bisogna scegliere. Stiamo chiudendo questa riflessione insieme alla Presidenza olandese. Abbiamo fatto, la Presidenza olandese ha lanciato una riflessione con gli stati membri chiedendogli allora quali sono i temi su cui concentrarsi. E noi, noi in Commissione europea abbiamo lanciato una simile discussione con gli stati membri, con le città, con le associazioni. Speriamo nelle prossime settimane di arrivare a dire ecco, questi sono i temi. Chiaramente c'è una grande questione che sta emergendo come centrale sulla discussione urbana che è la questione dell'inclusione sociale e dell'occupazione e quindi dell'integrazione delle popolazioni migranti. E quindi sarà sicuramente uno dei temi. La seconda questione è la questione del coordinamento che noi ci poniamo, noi Commissione, perché anche lì diciamocela tutta, c'è una grande cacofonia anche a livello della Commissione con iniziative che vanno da tutte le parti ma è difficile leggerle, è difficile capire esattamente che cosa si stia facendo. E quello che noi vorremmo fare è cercare di allineare tutti gli strumenti disponibili a livello europeo attorno a quelle priorità che speriamo di identificare rapidamente. La terza questione è una questione un pochino più tecnica ma abbastanza importante che è quella dell'impatto della legislazione europea sui territori. Anche lì c'è una riflessione che è avanti da tanti anni ma in realtà non siamo mai riusciti a quagliare, a dire ecco si fa così quando una direzione generale a Bruxelles decide di fare una direttiva sull'efficienza energetica nelle case, qual è l'impatto che questo ha sull'organizzazione del territorio e quindi stiamo costruendo delle metodologie per dimostrare che si può fare dell'analisi di impatto della legislazione delle politiche europee sui territori e sulle città in particolare. E l'ultimo quarto tema su cui stiamo lavorando è quello della conoscenza. Anche lì il tema tecnico sembra noioso ma in realtà cruciale è estremamente politico perché se non siamo in grado di misurare che cosa facciamo non siamo in grado di raccontare perché è importante farle quelle cose. Questa discussione è importante anche per un altro motivo non solo per far emergere la questione urbana a livello europeo e farla diventare un pezzo della riflessione di come si costruiscono le politiche europee ma anche perché c'è un'altra riflessione che si sta lanciando in questi giorni, ne parlavamo poco fa con Andrea Cozzolino, che è la riflessione su cosa sarà la politica di coesione dopo il 2020. Sembra un po' presto per parlarne ma in realtà la discussione inizia adesso. E la questione è quale sarà il ruolo delle politiche urbane. E quale sarà il ruolo delle politiche urbane dipenderà in modo decisivo da che cosa i programmi nazionali come il Polmetro, come quello che i programmi regionali fanno in ambito urbano, sarà in grado di dimostrare. Perché o saremo in grado di dimostrare che c'è valore aggiunto, c'è novità, c'è innovazione o sarà difficilissimo spiegare perché ci deve essere una dimensione urbana nella prossima politica di coesione. Dibattito che peraltro sarà anche quello difficilissimo per questioni finanziarie. Chiusa la parentesi europea, permettetemi di fare tre osservazioni sull'agenda italiana. Innanzitutto il lavoro di Urbanit mi sembra importante proprio perché permette di fare il raccordo fra la riflessione europea e il dibattito in Italia. E quindi alcune osservazioni. La prima è che condividiamo pienamente l'analisi sul perché, quali sono i bisogni, come identificati dal rapporto. Frammentazione degli interventi, nonostante la dimensione urbana, nonostante un ponda, la sensazione che abbiamo è che questa frammentazione sia difficilissima da superare e l'abbiamo appena sentito dalla INI poco fa. Il coordinamento intersettoriale, altrettanto difficile, la mancanza o una debolezza di una regia nazionale che permetta di coordinare il tutto e ovviamente, come sapete, una riforma che fa molto fatica ad avanzare. Che fare? Quali sono i tre punti che noi vorremmo mettere sul tavolo? La prima è che gli interventi urbani all'interno della politica di coesione devono, questa non è un'opzione, anche qui credo che bisogna essere chiarissimi, c'è un po' di retorica nei programmi, ma ci sono anche delle cose che vanno fatte. Deve essere agganciata a delle strategie urbane, che queste si chiamino piano strategico metropolitano o un'altra cosa, non ha importanza, ma ci devono essere delle strategie, alcune città le hanno fatte, altre città non le hanno fatte, ma strategia deve esserci, perché se no il rischio di nuovo è una grande frammentazione degli interventi, abbiamo già segnali di operatori che dicono se ci mettiamo a fare i pali artistici, non sapevano neanche che esistessero, totalmente scordinati da qualsiasi strategia complessiva di sviluppo dell'area. E queste strategie devono occuparsi dell'area funzionale metropolitana, perché anche lì una delle indicazioni, dei segnali che vediamo è che in realtà la maggior parte degli interventi vanno a concentrarsi in piccoli quartieri nei capoluoghi dell'area metropolitana. Che non è esattamente, lo spirito della discussione sulle aree metropolitane e lo spirito del PONmetro di cui abbiamo parlato poco fa. La Commissione ha chiesto e ha ottenuto all'interno del programma del PONmetro la creazione di un segretariato tecnico. L'idea era quella di avere una struttura che permettesse di accompagnare i programmi, di accompagnare gli interventi, di essere testa e il cuore tecnico di questo programma, di fare il raccordo con i programmi regionali, perché c'è molto urbano nei programmi regionali, non c'è solo il PONmetro. Di creare e consolidare conoscenza e non solo per dare coerenza agli interventi all'interno dei fondi strutturali europei, ma anche per alimentare la riflessione sull'agenda urbana nazionale. Anche questo segretariato non è un'opzione. Noi attendiamo di vedere che questo segretariato sia messo in piedi e funzioni come deve funzionare. È dentro al programma, deve essere fatto. Idealmente prendendo competenze dai diversi ministeri che si occupano di politica urbana, proprio per dare quella necessità di integrazione settoriale che è identificata come una delle difficoltà delle questioni urbane in Italia. L'ultimo punto è che la Commissione è pronta a mettere a disposizione un luogo dove facilitare questa discussione. Voi sapete che c'è una rete sullo sviluppo urbano che si sta creando, si sta mettendo in piedi, che è a disposizione delle città come punto di incontro, utilizziamola in Italia per facilitare questa riflessione, questa interazione fra i diversi attori coinvolti. Io chiudo qua. Vi pregherei di non dimenticare o di tenere a mente, perché quando ci si parla fra di noi urbanisti, regionalisti, sembra che tutto vada bene, ma vi posso garantire che il mondo, almeno il mondo europeo, è un mondo settoriale, non è un mondo territoriale. E quindi la difficoltà gigantesca che una politica come la politica regionale, come la dimensione urbana di questa politica ha nell'esistere politicamente a Bruxelles è enorme. E quindi abbiamo bisogno di dimostrare con i programmi regionali, con i programmi urbani, che veramente c'è differenza, altrimenti moriremo settoriali, perché è così che sarà organizzato il... è in questo senso che va il nuovo bilancio e la nuova riflessione europea. Europa 2020 è settoriale, le dieci priorità di Juncker sono settoriali. E quindi se vogliamo vincere questa discussione, la cosa cruciale sarà dimostrare e assicurarsi che i programmi 2014-2020, dimentichiamoci 2007-2013 per un momento, che i programmi 2014-2020 partino, perché non dimentichiamoci anche che siamo alla fine del 2015, cioè a due anni nel periodo di programmazione e come molti di voi sanno c'è molto da fare, c'è ancora molto da fare per far partire i programmi. Quindi la discussione inizierà presto e sarà bene essere equipaggiati per vincere. Grazie.